Il freddo delle ultime ore ha fatto riesplodere la protesta degli studenti a Benevento per via del malfunzionamento delle caldae e degli impianti termici all'interno di alcune scuole. Prima il liceo scientifico, poi l'industriale Lucarelli ed oggi anche gli studenti della succursale del liceo Guacci di Via Compagna a Benevento sono rimasti fuori dai cancelli per dire basta alle aule fredde. Il problema che abbiamo riscontrato è un malfunzionamento delle caldaie che vanno ad alimentare i termosifoni all'interno della nostra scuola e anche quella della scuola accanto che è il rampone e questo problema si presenta più o meno da lunedì. Poi l'inmito alla provincia di Benevento proprietaria degli istituti affinché al più presto si stemino le caldaie. Noi siamo consapevoli del fatto che non è un problema di scuola, infatti ci appelliamo alla provincia e chiedere una mano, quindi chiedere di aggiustare queste caldaie rotte perché comunque all'interno della scuola fa molto freddo e non si riesce a stare. Un problema riscontrato già ad inizio settimana e non risolto ed è per questo che oggi gli studenti dell'istituto Guaccio, ospitato in parte nel plesso del rampone, chiedono interventi urgenti e risolutivi. Noi è da lunedì che siamo rientrati a scuola, le classi erano molto fredde, abbiamo aspettato per vedere se da parte della scuola veniva appunto fatto qualcosa, giovedì sono venuti i tecnici e hanno detto che era tutto a posto. Noi venerdì siamo venuti a scuola, la situazione non era cambiata, quindi sono stati chiamati nuovamente tecnici che hanno detto che tre caldaie su quattro erano rotte, ne sono state aggiustate due, quindi ora noi abbiamo il funzionamento di due caldaie su quattro.